Il sindaco Luigi De Magistris è il primo titolare della Run Card, la nuova carta della Federazione Italiana di Atletica Leggera dedicata al mondo del running. Il progetto è stato presentato questa mattina nella sala giunta del comune dal presidente Fidal Alfio Giomi e vuole dar vita ad una vera e propria community di praticanti e amanti della corsa che potranno prendere parte alle gare pudistiche senza essere iscritti ad associazioni. La Run Card è un nuovo prodotto della Federazione Italiana di Atletica Leggera, un prodotto assolutamente innovativo nel mondo sportivo. È la prima tessera di carattere amatoriale che si può fare direttamente con la federazione ed è un modo per entrare in un mondo che in questo momento conta 6 milioni di partecipanti, tanti sono stimati dall'Istat, coloro che almeno tre volte a settimana vanno liberamente a correre nella città. Cioè la possibilità di far parte di una grande community all'interno della quale ci si scambia anche notizie e informazioni per stare meglio fondamentalmente perché si corre per mille motivi, ognuno di questi è un buon motivo e come si tutta insieme sicuramente contribuiscono a migliorare il proprio stile di vita. La nuova tessera consentirà inoltre di condividere la propria passione sportiva anche attraverso un portale web www.runcard.com dove sarà possibile informarsi e consultare uno staff di medici specialisti, nutrizionisti e allenatori. C'è tutta una serie di servizi di carattere tecnico, medico, anche una charity importante perché il 50% di questa carta va ad associazioni che fanno sul territorio come il Libero, come il Sion Aid, 10 euro addirittura vanno alle scuole per i campionati studenteschi. Insieme alla Runcard la Federazione di Atletica Leggera ha presentato anche il progetto Parchi che a partire da Napoli si propone di creare i percorsi certificati per i corridori nelle aree verdi delle maggiori città italiane.